ciao ragazzi prima abbiamo fatto una flip classroom sulla partita doppia del compratore e adesso facciamo lo stesso esempio però con la contabilità del venditore vediamo quello che succede in data 3 giugno si procede alla vendita di 500 paia di scarpe a 30 euro ciascuna più 22 per cento di iva il 5 giugno viene inviato dalla cliente un anticipo pari al 25 per cento del ricavo di vendita e l'anticipo viene incassato in contanti quindi a me interessa intanto di capire a quanto ammonta questo 25 per cento di anticipo quindi farò 15.000 per 25 diviso 100 3.750 euro e questo è un acconto da parte dei clienti poi siccome che l'acconto è comprensivo di iva quindi acconto più iva aggiungiamo pure il 22 per cento su 3.750 quindi faremo 3.750 per 22 diviso 100 e ci viene 825 euro che è l'iva debito andiamo a sommare e avremo quanto incasseremo a titolo di acconto allora andiamo a vedere i mastrini da usare a conti clienti iva debito e cassa per farvi capire meglio i movimenti dell'iva io ho deciso di utilizzare iva debito perché comunque capite bene l'importo dell'acconto quanto prenderà il venditore e quanto poi sarà praticamente l'importo da versare allo stato ai fini della liquidazione comunque ovviamente il venditore mister cigar in cassa 4575 euro si poteva non mettere in evidenza iva e mettere soltanto direttamente a conti clienti cassa e poi calcolavate l'iva sull'importo al netto dell'acconto quindi non la calcolavate su 15.000 ma la calcolavate sostanzialmente su 15.000 meno 3.750 io l'ho fatto così l'importante è che il totale del dare sia uguale al totale dell'avere che sia rispettato il criterio della economicità quindi dei conti finanziari e dei conti economici quindi mi piaceva seguire quest'approccio perché almeno monitoriamo le movimentazioni dell'iva a debito come abbiamo fatto per l'iva a credito il 5 giugno quindi andiamo a contabilizzare l'incasso dell'acconto quindi cassa variazione finanziaria attiva 4575 iva a debito 825 a conti clienti 3750 il 10 giugno inviata la fattura alla cliente contestualmente alla merce di 500 paia di scarpe a 30 euro ciascuna più iva 22 per cento quindi qui ci interessa sapere il costo complessivo il ricavo complessivo 500 per 30 15.000 euro che sono i ricavi 15.000 per 22 diviso 100 3.300 quindi all'iva complessiva pertanto il ricavo complessivo è 18.300 andiamo a chiudere ovviamente le movimentazioni transitorie iva a debito e a conti clienti perché tanto quegli 825 sono stati incassati e adesso siccome che dobbiamo riportare l'importo dell'iva debito della sua interezza andiamo a ovviamente scrivere 15.000 euro che è il ricavo e iva a debito no perché comunque abbiamo chiuso gli 825 perché le andiamo a contabilizzare l'iva nella sua interezza 3.300 e poi mettiamo crediti verso clienti 13.725 perché 13.725 perché a 18.300 dobbiamo togliere quei soldi che sono entrati a titolo di acconto quindi 3.750 825 che faceva 4.575 quindi 18.300 come stiamo vedendo meno 4.575 fa 13.725 andiamo a fare la rilevazione in partita doppia quindi tutto 10 giugno clienti variazione finanziaria attiva 13.725 iva a debito 825 acconti clienti li abbiamo chiusi per far spazio all'iva nella sua interezza quindi 3.300 vendita merci 15.000 quindi variazione economica positiva in avere sempre il 10 giugno vengono trovate 10 paia di scarpe con difetti di produzione che verranno restituite al fornitore mister cigar pertanto dobbiamo rilevare il reso sulle vendite come si fa 10 per 30 che è il prezzo di vendita delle scarpe 300 euro sul quale viene calcolata l'iva del 22 per cento che fa 66 quindi 300 più 66 366 è l'importo complessivo da scalare al credito di mister cigar andiamo a vedere quindi il credito residuo non sarà più 13.725 ma 13.725 meno 366 che fa 13.359 questo 366 è composto da 300 che ha una variazione economica negativa quindi resi su vendite e da 66 che è la rettifica dell'iva quindi è lo storno di una parte di iva 66 che non non dovrà essere più incassata da parte del cliente per un totale di 366 euro quindi minori crediti verso clienti quindi variazione finanziaria passiva 366 andiamo a fare l'articolo in partita doppia quindi resi su vendite variazione economica negativa perché una rettifica di ricavo 300 iva debito 66 e clienti 366 l'11 giugno la cliente paga il 10 per cento del residuo credito di mister cigar tramite cassa il 25 per cento del credito tramite banca il resto viene messa una cambiale attiva con scadenza 12 luglio e viene concesso un abbono di 83 euro e 35 centesimi da abbattere all'importo dell'effetto e del credito appunto residuo quindi da abbattere sull'importo dell'effetto e del credito residuo come si fa quindi andiamo a calcolare il 10 per cento del credito residuo quindi 1335 e 90 centesimi vengono dati tramite cassa il 25 per cento di 13359 viene versato viene fatto un bonifico bancario 3339,75 quindi queste sono due variazioni finanziarie attive per vedere il credito residuo che ancora devo incassare basta fare 13359 meno i due versamenti quindi meno 1335,90 più 3339,75 quindi quel parziale lì che viene sottratto appunto a 13359 il risultato è 8683,35 a questo dobbiamo togliere la buono passivo che mister cigar concede alla cliente di 83 euro e 35 centesimi pertanto il credito ancora da incassare da parte di mister cigar che dovrà essere pagato dalla cliente è 8600 euro che abbiamo detto che verrà poi incassato il mese successivo grazie all'emissione di una cambiale che verrà incassata da mister cigar dopo un mese che cosa dobbiamo fare quindi dobbiamo aprire il mastrino 8335 a buoni passivi variazione economica negativa perché è uno sconto che viene fatto alla cliente cambiali attive quindi il credito diventa il credito residuo diventa una cambiale attiva quindi variazione finanziaria attiva e poi abbiamo ovviamente da chiudere il cassa quindi c'è da inserire sul mastrino cassa 1335 e 90 centesimi e banca 3339 e 75 quindi tutto questo sommato da buoni passivi a cassa e cambiali attive verrà poi chiuso in avere nel mastrino clienti come variazione finanziaria passiva che è pari a 13359 andiamo a fare la partita doppia cambiali attive quindi 8600 variazione finanziaria attiva perché il credito residuo abbiamo visto che è diventata una cambiale attiva cassa e banca che sono importi che sono stati versati dalla cliente sulla cassa e sul conto bancario del fornitore l'abbono passivo ovviamente è lo sconto del quale abbiamo parlato prima e chiudiamo il conto clienti quindi variazione finanziaria passiva e quindi abbiamo fatto la registrazione dell'articolo in partita doppia il 12 luglio mister sigar si presenta con la cambiale per il versamento del credito residuo relativo alla fornitura facilissimo perché andiamo a rilevare il bonifico quindi gli 8600 euro che sono entrati sul conto bancario di mister sigar variazione finanziaria attiva chiudiamo quindi cambiali attive perché non ci sono più variazioni finanziaria passiva e andiamo a fare poi l'articolo in partita doppia eccolo qua 12 luglio quindi banca 8600 euro banca cc conto corrente quindi banca conto corrente 8600 variazione finanziaria attiva e cambiali attive 8600 euro in avere quindi spero che adesso insomma le registrazioni della compravendita di acquisti e vendite siano più più chiare un caro saluto e grazie per la visualizzazione